Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Ci siamo qui per recensire la custodia waterproof della Xiaomi Yoni Questa qui è la versione originale Come sai vedere, qui abbiamo la scatola della custodia E questa è la scatola della Xiaomi Come sai vedere, sono praticamente uguali Solo che la scatola della custodia in waterproof è molto più grande Iniziamo subito con il vedere cosa c'è all'interno della scatola All'interno della scatola abbiamo la custodia Abbiamo una vite Abbiamo il convertitore della custodia apte classica dei treppiedi Come ad esempio possiamo aiutarlo anche a questo mini treppiede E poi abbiamo un classico libretto delle istruzioni alla Xiaomi Completamente in giapponese, cinese o comunque nella lingua, non in italiano La custodia waterproof è formata in plastica Con il materiale della lente in vetro Abbiamo i vari tasti Abbiamo il classico tasto per accendere e spegnere la macchinetta Il tasto per accendere e spegnere la registrazione E abbiamo il tasto del wifi La custodia può portare la macchinetta fino a 40 metri sotto acqua Io ovviamente non l'ho provata fino a 40 metri Però con questa grip possiamo vedere la totale impermeabilità della custodia L'ho provata sia in mare e sia in piscina Possiamo dire che in mare Non so se si vede tanto bene Comunque qui nella parte dove c'è la vite Non so se dipende dal ferro o comunque da normale Perde colore e si augenisce La custodia è fatta soltanto per la Xiaomi E andrà bene appunto soltanto per la Xiaomi Con questa custodia e con l'adattatore Possiamo far sì che qualsiasi accessorio GoPro vada bene Infatti io ho comprato un kit di 40 accessori GoPro E vanno tutti benissimo Quindi vi consiglio di acquistare la custodia Non solo per avere un'impermeabilità E per far sì che sia più sicura Quando magari andiamo in moto Comunque in qualche altra occasione E cada e non si faccia niente Ma abbiamo appunto la custodia Ma anche per avere un'impermeabilità E per tutta la compatibilità Con tutti gli accessori GoPro E appunto risparmiare soldi Su comprare gli accessori soltanto per Xiaomi Infatti su Amazon Se cerchiamo accessori per la GoPro Troviamo un casino di accessori Ad esempio 40 accessori a 20 euro Che è davvero una buonissima offerta Il prezzo della custodia si aggira intorno a 30 euro Su Amazon possiamo anche trovare custodie da meno Da 10, 20, 15 euro Io ho voluto prendere la custodia originale Perché delle altre non mi fidavo E mi scocciava buttare via 70 euro di macchinetta Non dico che le custodie non originali vadano male Ma semplicemente non mi fidavo E ho deciso di meno una volta prendere qualcosa di originale E siccome non ho preso una GoPro Almeno avere la custodia originale Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale E mettete un like al video Per supportarmi E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao